La crisi sembra non scalfire il mercato immobiliare trapanese. Il caro vecchio mattone quindi resta un punto di riferimento per chi vuole investire. Una vera sicurezza, forse più delle banche di questi tempi, lo stabilisce l'Osservatorio dei Prezzi Immobiliari, che ha focalizzato la sua attenzione su Trapani e Interland, mettendo in evidenza come sostanzialmente i prezzi delle abitazioni di qualsiasi tipologia rimangono stabili. Una casa in condominio e in centro storico vale attorno a 1000 euro metro quadrato e, particolare mercato, ce l'hanno le abitazioni più piccole, con appena due o tre vani. Questo perché, secondo l'Osservatorio, l'idea è quella di investire per trasformare tendenzialmente queste case in bed and breakfast oppure per regalarle ai figli. Il centro storico del capoluogo è caratterizzato dalla presenza di abitazioni padronali, sorte prima del 1940, ed apprezzate anche da stranieri e da acquirenti in arrivo dal nord Italia in cerca della casa vacanza o della tipologia per investimento. In questo contesto un'abitazione da ristrutturare ha un valore compreso tra 400 e 500 euro metro quadrato, mentre per tipologie già ristrutturate la spesa sale a 800-900 euro. Per acquistare invece un appartamento ristrutturato in palazzine ante 67, bisogna mettere in conto una spesa di 900.000 euro al metro quadrato, mentre per tipologie degli anni 90, situate in un buon contesto abitativo, la spesa media si attesta su 1.000-1.100 euro. Le aree commerciali, quindi parliamo di zona archi, l'usato in buono stato di manutenzione si vende a 750-850 euro al metro quadrato, mentre per il nuovo si spendono mediamente tra i 1.000 e i 1.100 euro. Buone occasioni si presentano fuori dal centro, specie nelle borgate che si sviluppano al ridosso della zona costiera, come ad esempio Bonagia, Pizzolungo e Cornino. In queste zone si possono acquistare ville e villette degli anni 80 oppure di recente costruzione. A Bonagia una villetta da ristrutturare costa tra 500-700 euro al metro quadro, una villetta ristrutturata vale tra 1.000 e 1.100 euro, mentre nelle aree di Pizzolungo e Cornino più decentrate le quotazioni scendono del 10-15%. Per quanto riguarda il mercato delle locazioni, si registrano canoni in leggero aumento, infatti la richiesta da parte di turisti per affitti estivi trascina verso l'alto anche le locazioni residenziali. La domanda arriva soprattutto da famiglie, coppie e single. Il canone di un monolocale arredato è di 200-250 euro al mese, mentre quello di bilocali e trilocali arredati oscilla tra 300 e 450 euro al mese.